Si chiama profezia dell'armadillo. Ogni previsione ottimistica fondata su elementi soggettivi e irrazionali spacciati per oggettivi e logici destinata ad alimentare delusione, frustrazione e rimpianti. Potrebbe essere più chiaro? Un va de mecum per prendersela nel culo. Tutto si muove all'interno dello schema madre del sistema. Potere, abilità, sovraffazione, denaro. Ti dovevi vedere l'odio. Il dogma degli schelli di tutte le periferie d'Occidente. Questo è il film di quello che stavi da mio padre, con la poca di feroce, con le TS. È normale che brucia, c'è pure scritto spray al pepe roncino. Sabato scorso ero bello riposato a mezzogiorno, una spruzzata fatta bene in faccia e poi riuscivo a intrattenere dei rapporti. Perché mi sto assofando? Senti, qual'è il problema del computer? Che hai fatto? Start? Eh. E dopo start? Scrivo cerca dove lo scrivo, sulla scrivania? Non ce la faccio. Ti giuro, guarda. Che fai? È un mazzo, lo viaggio. Termo! Se mi lascia le generalità. Adriano Panetta. Professione? Professione. I zumbi che poi li cadiano l'aglio, no? No, quelli sono i vampiri. I vampiri sono ricchi e fascinosi. Invece i zumbi sono proletariato. Quanto anni c'hai te? 27. Non è meglio, la fregna, no?